Istituite con decreto legge il 9 marzo sarebbero dovute partire il 24 aprile scorso in tutta la Puglia le 80 unità speciali di continuità assistenziale delle ASL necessarie per curare a domicilio i pazienti malati di covid. Un gruppo di 400 medici, 5 per ogni postazione, che si sarebbero divisi in due turni giornalieri, così da poter effettuare 8 visite domiciliari al giorno, ma ad oggi non sono state ancora attivate. A richiederle tramite un'interrogazione urgente è il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli. Ho depositato un'interrogazione urgente agli atti del consiglio regionale per stimolare l'assessorato regionale alla sanità subito ad istituire le USCA, considerato che rappresentano un momento fondamentale per assicurare a tutti i pazienti affetti da coronavirus in isolamento domiciliare, che sono abbandonati perché ricevono soltanto qualche telefonata dalla ASL, i medici di medicina generale non possono andare e il protocollo prevede che non debbano andare perché loro non hanno i dispositivi di protezione individuale che dall'ASL avrebbe dovuto fornire tra l'altro. Ma per Damascelli non è solo la sanità ad essere in forte difficoltà, anche diversi settori dell'economia pugliese e tra questi quello lattiero caseario, che grazie al suo impegno ha avuto un contributo di 2 milioni di Euro. Si è notevolmente contratto il quantitativo di latte richiesto dal mercato. Siccome le vacche non sono delle macchine che le puoi spegnere, ma sono degli esseri viventi, quindi degli animali, e vanno nutrite e monte ogni giorno, non può fermare il ciclo produttivo, un'azienda azotecnica, devono comunque produrre. Il latte in eccesso andava buttato. Ho individuato nelle pieghe del bilancio dei fondi a disposizione per il mondo agricolo, ho scritto una legge in cui si prevede un contributo a fondo perduto per gli allevatori pugliesi, ma anche per i trasformatori che continuano a ritirare latte pugliese da agricoltori con attività ubicate sul territorio regionale. In questo caso quei trasformatori si caricano di latte che però non riescono a piazzare sul mercato, quindi vanno sostenuti anche loro. In più abbiamo previsto la possibilità di consegnare il siero dei latte, anziché agli smaltitori, agli impianti di biogas per un eventuale ritorno energetico e quindi abbiamo cercato di sostenere una categoria che rappresenta un fiore all'occhiello del nostro territorio e che in questo momento stava soffrendo fortemente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.